Ciao ragazzi! Abbiamo realizzato una ricetta veramente estiva, fresca, ma soprattutto gustosissima. Friselle, stracciatella, pomodori confit e sardine all'olio d'oliva di Delicious. Iniziamo dai pomodorini confit. Li mettiamo in teglia, erbe aromatiche, scorze di agrumi, pepe, sale, un giro d'olio e zucchero a velo. Andiamo in forno ed eccoli qua, pronti. Ammorbidiamo adesso le nostre friselle in acqua. Una volta ben ammorbidite le scoliamo e le andiamo subito ad impiattare con la stracciatella. Un giretto d'olio, una manciatina di pepe, pomodorini confit e dulcis in fundo arriviamo alle nostre sardine all'olio d'oliva di Delicious, gustosissime e super saporite. Le andiamo ad impiattare sulla frisella, fogliolina di basilico e ragazzi è super fresco, mi raccomando riprovateci! Grazie!